I luoghi comuni sono una costante nelle lingue. Tutti noi, in quanto parlanti nativi di una lingua, ci sentiamo in possesso della verità sulla nostra lingua. Ma di solito siamo più che altro maestri di stereotipi che ripetiamo per sentito dire. Noi italiani amiamo ripetere che l'italiano è una lingua bella, raffinata, dal lessico più ricco delle altre, di sicuro più dell'inglese, molto complicata. Ma sarà poi vero tutto questo? C'è qualcosa che rende l'italiano davvero speciale e addirittura unico? Benvenuti su Podcast Italiano, un canale in cui insegno l'italiano e a volte mi avventuro in discorsi di linguistica italiana. Questo è uno di quei video. Trovi la trascrizione sul mio sito web, il link è nella descrizione e attiva i sottotitoli se ti servono. Che l'italiano sia una lingua raffinata, bella, elegante, mi duele ammetterlo, non è un dato di fatto, è un'opinione. Ci sarà dunque chi la troverà meravigliosa e chi un po' meno. In passato c'era chi considerava l'italiano una lingua bellissima e chi la considerava una lingua un po' scema. Persone con gusti cattivi, ovviamente. Tutte le opinioni sono valide perché, appunto, sono opinioni e non hanno alcun fondamento empirico. Potremmo metterci a discutere di bellezza da un punto di vista filosofico e interrogarci sull'esistenza della bellezza reale. Ma siccome questo è un canale di lingua italiana, li mettiamoci a dire che la bellezza non è un parametro oggettivo. Ma già ho dedicato questo video alla bellezza dell'italiano. La domanda che voglio farmi è ci sono tratti della lingua italiana che non esistono in altre lingue e che la rendono unica? Parliamo di congiuntivo. Noi italiani crediamo che il congiuntivo sia qualcosa di particolare, di raffinato, di speciale, che rende la nostra lingua per qualche motivo un po' superiore alle altre, perlomeno all'inglese. In realtà, chi conosce un'altra lingua romanza sa che portoghese, spagnolo, francese, rumeno, catalano, tutte queste lingue hanno un congiuntivo. Allora, ragioniere, che fa? Batti? Ma... mi dà del tu? No, no, dicevo... Batti lei? Ah, congiuntivo? Sì! Aspetti! E la cosa curiosa è che, almeno che io sappia, siamo solo noi italiani a dare questa importanza al congiuntivo. In italiano, sbagliare un congiuntivo è visto come un sintomo di estrema ignoranza. Il sacrificio che hanno fatto i Veneti dovesse essere... poi riconosce... forse... dovesse essere stato... forse... fosse stato... ci ho incasinato qui... lo devo dire col condizionare giusto. Abbiamo un rapporto quasi religioso con il congiuntivo, mentre in altre lingue sono molto più rilassati. Chissà perché. Comunque, ci sono anche lingue non romanze, ma indoeuropee, che hanno un congiuntivo, come il tedesco o l'inglese. Sì, c'è anche l'inglese, ne rimangono solo delle tracce sparse qua e là, ma in una frase come I insist that they be there on time, quel be è un subjunctive. Ma ci sono anche lingue slave che lo conservano, quindi non possiamo certo affermare che il congiuntivo sia qualcosa di così speciale e unico. Qualcosa che potrebbe sembrare esclusivo dell'italiano sono le consonanti doppie o geminate. Ne ho parlato in questo video. E lo sono in un certo senso. In italiano abbiamo parole come abbagliare, palla, affare, dissotterrerebbe. Ma le doppie ce le ha davvero solo l'italiano? Consideriamo queste parole spagnole. Innato, connotación, Emmanuel. In realtà sembrerebbe che anche queste parole sono pronunciate con una doppia. Sì, non è solo una questione ortografica. Queste doppie possono essere proprio pronunciate. Anche in francese, in realtà, a livello fonetico ci possono essere dei casi simili, per esempio le parole inné e immortel, dove alcuni parlanti fanno delle consonanti doppie. Vediamo poi che succede in catalano, dove abbiamo parole come semmana, novella, pellicula, bagge. Quindi anche in catalano ci sono delle consonanti geminate, per non parlare delle lingue o dialetti del centro-sud italiano, che ce le hanno pure loro. Giannomi, non ti prego! Che vuoi da me? Scarricamela! Senti, non è che posso passare tutta la vita a scaricare le tue fidanzate? Vediamo quindi che esistono altre lingue che sembra abbiano delle doppie. Ma allora, quando in questo video vi ho detto che erano una cosa esclusiva dell'italiano, vi ho mentito? È un po' complicato il discorso, perché in spagnolo e in francese queste consonanti doppie sono solo fonetiche, cioè non hanno un valore fonologico, non differenziano le parole. Cioè, mentre in italiano una doppia è una vera e propria consonante lunga, in spagnolo si tratterebbe di due consonanti brevi che casualmente si trovano una dopo l'altra, detto semplificando molto. In spagnolo non c'è una differenza di significato tra, che ne so, innato e inato, che non esiste, ma in italiano c'è differenza tra anno e... Ho già fatto questa battuta di basso livello troppe volte. La presenza della doppia può cambiare la parola, quindi il concetto mentale che sta dietro è molto diverso. E in catalano? In catalano il dibattito è aperto, non è chiaro se questa geminazione abbia un valore fonologico, ma in ogni caso, anche se fosse, non raggiungerebbe i livelli dell'italiano. Potremmo quindi dire che la principale differenza dell'italiano rispetto alle altre lingue romanze, ripeto, senza tenere conto delle lingue dell'Italia centro-sud non sta nel fatto che abbia consonanti geminata a livello fonetico, ma nell'ampio uso che ne fa. Consideriamo questa frase. Quel nonno in carrozzella era un attaccabottone. Era un po' bizzarro. Quando mi vedeva mi dava uno scappellotto sulla spalla, ma era davvero affettuosissimo. Quindi sì, almeno tra le lingue romanze questo aspetto rende l'italiano abbastanza peculiare. Psss! Questa frase viene da un esercizio del mio corso di pronuncia Fonetica Italiana Semplice. Link in descrizione. Consideriamo ora queste frasi. Questa perifrasi, andare più infinito, è molto comune nelle lingue romanze ed esiste anche in inglese, tra l'altro, una lingua non romanza. Esprime generalmente un futuro prossimo o un'intenzione. In italiano no, perché se dico vado a mangiare significa che sto letteralmente andando a mangiare, mi sto spostando per andare a mangiare. Sembra che l'italiano sia unico tra le lingue romanze perché con questa costruzione non esprime il futuro, ma un vero e proprio movimento. Oppure forse no, perché ritorna di nuovo il nostro amico catalano. In catalano standard l'uso di questa perifrasi è esattamente come in italiano standard, anche se sembra che si stia usando sempre di più come in spagnolo con il significato di futuro. Ma allora c'è qualcosa, qualche caratteristica che ha inequivocabilmente solo l'italiano e nessun'altra lingua romanza, almeno tra le lingue principali? Sì, qualcosa forse esiste. Per esempio, in italiano abbiamo due articoli maschili, il, lo e al plurale i, gli. E l'uso di questi dipende dall'inizio fonetico della parola che viene dopo. Quindi il padre è al plurale i padri ma lo zio, lo studente, lo psicologo, eccetera. Al plurale gli zii, gli psicologi. Questo sì, è abbastanza peculiare, ma bisogna tenere presente che l'aspetto particolare non è tanto la forma quanto il suo uso perché l'articolo lo in realtà esiste anche in spagnolo e asturleonese. Lo ermosso o lo malo. Sia in spagnolo che in asturleonese, tuttavia, questo lo indica un genere neutro e non una forma del maschile. Lo ermosso si tradurrebbe in italiano con il bello o ciò che è bello. O a volte useremmo altre costruzioni come la cosa bella. L'altra particolarità di cui vi parlavo riguarda il congiuntivo usato per esprimere opinioni affermative. Dai un'occhiata alle frasi sullo schermo. Solo una è al congiuntivo ed è proprio quella italiana. Non ho trovato nessun'altra lingua che usi il congiuntivo in questa struttura. Tuttavia, non direi proprio che è un motivo per affermare che l'italiano è più raffinato, più elegante, più profondo. Ci sono casi in cui le altre lingue usano il congiuntivo e l'italiano invece no. Per esempio, in spagnolo, quando si usa la parola quando, per parlare di avvenimenti futuri, si usa il congiuntivo. Quando lo hagas, teiamo. In italiano, invece, useremmo l'indicativo. Quando lo fai o quando lo farai, presente o futuro. Infine, il futuro nel passato tipicamente nelle lingue romanze, ma anche in inglese in questo caso, esiste questa costruzione con il condizionale presente o semplice. Mi ha diccio che lo haria. Il ma di chi lo ferà. He told me he would do it. In italiano moderno si è imposta la costruzione mi ha detto che l'avrebbe fatto con il condizionale passato o composto. Anche se in passato era comune la costruzione con il condizionale semplice come nelle altre lingue romanze. Ok, ma sicuramente l'italiano è una lingua con un lessico particolarmente ricco. Più ricco del lessico in altre lingue, vero? Sicuramente più ricco di quella lingua barbara che l'inglese, perlomeno. Determinare quante parole ci sono in una lingua è molto complicato. In realtà non abbiamo nemmeno una definizione precisa di cosa sia una parola. I pronomi sono parole? Lo, gli, la... Il loro livello di indipendenza non è lo stesso di, per esempio, macchina o sfigmomanometro. Mangiamo e mangio sono parole diverse o forme diverse di una stessa parola, il verbo mangiare. Di solito per contare cos'è una parola si ricorre al dizionario, al numero di voci che ha. Naturalmente i dizionari sono diversi a seconda dell'obiettivo che hanno. Alcuni sono scolastici, altri scientifici, altri di base, altri generali. E a questo aggiungiamo un altro problema. Quando si può dire che una parola fa parte di una lingua, una parola che ha smesso di essere comune svariate generazioni fa, come che significa anche, ma che compare sui dizionari? È una parola vivente? Gli anglicismi che usiamo tutti i giorni? Le parole usate dai giovani? Ogni dizionario ha dei criteri diversi per decidere quando una parola diventa una parola. Se consideriamo le voci nel dizionario, a seconda di chi le conta, l'italiano avrebbe tra le 215 e 270 mila parole, un intervallo abbastanza ampio. L'inglese, ad esempio, ne conterrebbe 170 mila e lo spagnolo tra le grandi lingue del mondo sarebbe quello con meno, poco più di 93 mila. Quindi l'italiano è una lingua dall'esico più ricco. Caso chiuso. Tuttavia, questi calcoli e questi paragoni sono inaffidabili. In base alla fonte che troviamo potremmo anche avere numeri molto diversi. Ciò di cui potremmo fidarci di più è il numero di parole necessarie per comunicare tutto ciò che serve, le parole più comuni, quelle della vita quotidiana. In italiano il vocabolario di base, come definito dal linguista Tullio De Mauro, si compone di circa 6500 parole, con cui componiamo circa il 98% di frasi della vita quotidiana. Tipicamente poi un madrelingua conosce dalle 15 alle 20 mila parole nella propria lingua, ma ciò ovviamente dipende da tanti fattori, uno su tutti il livello di istruzione, ma anche, non lo so, quanto leggiamo. Ci sono infine italiani che definiscono la lingua italiana genericamente difficile, facendo riferimento alla sua morfologia. Ma anche qui la morfologia delle altre lingue romanze è molto simile a quella dell'italiano, con i suoi numerosi tempi e modi verbali, i suoi due generi, e così via. inoltre, se allarghiamo il quadro alle lingue del mondo, ci accorgiamo che ci sono lingue morfologicamente molto più complesse, che poi la morfologia non è neanche l'unico possibile aspetto di complessità di una lingua, ma ho già parlato di questo in questo video. Ma quindi c'è davvero qualcosa che rende unico, speciale l'italiano? Qualche sua caratteristica o qualche tratto della lingua? Io direi di no. Dovremmo anche mettere da parte questa voglia di dimostrare che la nostra lingua è superiore alle altre, se vogliamo parlare in maniera scientifica di una lingua. E attenzione, è del tutto legittimo amare una lingua che si parla da madrelingua o che si sta imparando, ma non c'è bisogno di giustificare questo sentimento con argomentazioni esagerate che cerchino di metterla al di sopra delle altre. Sento spesso italiani che esaltano l'italiano sminuendo l'inglese, soprattutto americano, per qualche motivo, come se quella fosse una lingua per qualche motivo barbara o inferiore. Di solito sono affermazioni scientificamente senza senso. Ciò che a mio parere rende particolare e unica ogni lingua non sono le sue caratteristiche particolari, ma da un lato la sua combinazione unica di tratti. Ogni lingua ha una sua unica combinazione di tratti che sono comuni in tante lingue e dall'altro lato tutta la cultura legata a quella lingua. Ora ci si potrebbe chiedere se ogni lingua è speciale. È davvero speciale essere speciali quando tutte le lingue sono speciali? Grazie per aver visto il video fin qui e un grazie al mio amico Stefano Suigo che è stato l'ispirazione per questo video con un suo video di qualche anno fa che vi invito ad andare a vedere. Se state imparando l'italiano trovate la trascrizione gratuita di questo video sul mio sito. Nel mio podcast italiano club trovate la stessa trascrizione ma completa anche di glossario con le parole difficili e l'audio isolato per riascoltare il video insieme a un podcast di approfondimento collegato e tantissimi contenuti esclusivi. Infine date anche un'occhiata al mio ebook come raggiungere un livello avanzato in italiano se questo è il vostro obiettivo. Questo è tutto alla prossima.